Abbiamo introdotto e abbiamo presentato oggi la possibilità di raccolta gratuita di legname secco da parte delle famiglie, quindi ad uso familiare, all'interno del Parco del Farnetto e di Via Giulia, mediante una richiesta di autorizzazione agli spazi verdi. Oggi abbiamo presentato questo progetto che partirà ufficialmente da domani, e assieme al consigliere comunale Porro, che si era interessato della vicenda, il dottor Pane Pinto, il forestale dell'area lavori pubblici spazi verdi, che gestisce in concreto la pratica. Quindi i cittadini, per uso familiare, potranno con una richiesta di autorizzazione accedere a queste aree in determinate fasce orarie per poter utilizzare legname secco per uso familiare. Questa ha una rilevanza sociale per due punti di vista. Uno, per l'utilizzo che i privati potranno fare le famiglie di questo legname secco, che altrimenti rimarrebbe nei nostri boschi. E da un altro punto di vista, sempre a rilievo sociale, perché darà decoro ai nostri boschi, ma anche la possibilità di evitare incendi o comunque pericoli per le nostre aree verdi. Per quello che concerne le autorizzazioni, dove si possono fare? Le autorizzazioni da domani saranno online il modello per la richiesta di autorizzazione su rete civica e sarà all'interno dell'area spazi verdi di rete civica. Sarà possibile quindi visionare le richieste di autorizzazione con tutti i recapiti del comune per poter accedere alla richiesta.